Comandante, si sono conclusi i due anni di sua permanenza al vertice dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca, qual è il bilancio che lei fa oggi? Il bilancio mi permetto di dire che dal mio punto di vista in ogni caso è estremamente positivo. La città di Sciacca sostanzialmente mi ha accolto e il lavoro che si è potuto finalizzare all'interno del circondario che abbraccia sia il comune di Sciacca che quello di Menfi, a mio parere è stato estremamente positivo. Soprattutto il rapporto che si è tessuto con la mariniera di Sciacca è stato molto importante e siamo riusciti a compiere un percorso nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Permettetemi di dire che la mariniera di Sciacca, rispetto ad altre marinerie e l'esperienza che comunque ho maturato in questi anni di servizio militare, a mio avviso si staglia un livello culturale, sociale o anche economico ben oltre la media. Infatti non è un caso che nel porto di Sciacca ci siano diverse tipologie di pesca, quindi parliamo di strascico, volante, cianciolo, circuizione o anche da posta. E con mio grande piacere ho anche notato che i membri dei vari equipaggi sono anche ragazzi giovani di circa 20-25 anni. Questo sta a significare sostanzialmente che c'è di fatto un turnover nel raccogliere l'eredità e anche tramandarla dai nonni, dai padri fino anche ai figli del lavoro di pescatore. Però permettetemi di dire che il lavoro non è tanto quello di pescatore ma in realtà è una professione perché riuscire ad andare a mare è un'attività già impegnativa di per sé. E anche effettuare l'attività di pesca è un qualcosa che si impara e lo si stratifica negli anni per poi metterlo in pratica. Lei che certamente verrà nei prossimi anni anche così da turista a Sciacca, le piacerebbe verificare quale passo in avanti compiuto dal settore? Spesso se ne parla, poi negli ultimi anni la crisi ha interessato anche la pesca, ma a suo parere in che maniera e in quale settore bisognerebbe incidere per favorire uno sviluppo ancora maggiore. Sicuramente verrò qui a rivisitare il circondario di Sciacca. Diciamo che ogni anno ogni comandante in genere apporta dei piccoli granelli di sabbia, li definisco io, nel percorso che comunque viene stratificato nel tempo. Ci sono delle migliorie che comunque devono essere apportate ed è il target di ogni amministrazione marittima, autorità marittima. Nel caso di specie si è avuto modo di incidere molto sulla realtà per esempio del giornale di pesca elettronico. È stato uno dei principali temi questi affrontati con non senza i dovuti correttivi. Sostanzialmente parliamo che ogni armatore, ogni pescareccio prima di rientrare in porto deve dichiarare i quantitativi e le tipologie di prodotto ittico pescato tramite un sistema informatico. Questo è stato comunque oggetto di ampia discussione e devo essere onesto, la marina di Sciacca si è mostrata estremamente ricettiva sotto questo punto di vista. Un altro aspetto su cui sarà importante insistere sarà appunto l'aggiornamento del piano raccolta rifiuti all'interno del porto di Sciacca in cui sarà possibile appunto conferire a livello unificato tutti i rifiuti prodotti dai pescherecci. Ad ogni modo preciso che ogni peschereccio attualmente ha un registro di carico e scarico dei rifiuti quindi sostanzialmente si comporta esattamente come un'impresa qualsiasi. Quindi tutto ciò che produce poi deve essere conferito secondo legge e testo unico ambientale. Per quanto riguarda la tutela dell'area portuale non soltanto ma anche delle zone che rientrano sotto la vostra competenza. Ricordiamo gli interventi che sono stati effettuati di bonifica importanti a Porto Palo di Menfi. Ecco quello che lei raccomanda immagino sia anche una maggiore tutela e un maggiore rispetto del mare per i prossimi anni. Il mare l'abbiamo sempre considerato come una risorsa sia dal punto di vista economico ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale. Questa forma di tutela comunque operata dall'autorità marittima va di pari passo spesso con il contrasto all'abusivismo demaniale. Nel caso di specie quindi nell'estate del 2019 si è effettuato un'importante attività all'interno del porto di Porto Palo di Menfi dove sono stati sequestrati un centinaio di natanti, deferiti altrettanti soggetti per occupazione abusiva di specchio acqua e quindi di rete maniera marittima. Non ci siamo fermati a questo. Ovviamente è stata una nostra preoccupazione nei mesi delle indagini di poter, grazie alla collaborazione del Comune di Menfi, di poter finalizzare la nostra azione che è stata da una parte reprimere l'abusivismo demaniale ma dall'altra anche bonificare le acque portuali da tutta un circa 18 tonnellate di materiale di corpi morti cosiddetti ovvero dei massi affondati che di fatto limitavano il pescaggio cioè il battente d'acqua tra il fondo del porto e la superficie del mare che di conseguenza riducevano anche in termini di sicurezza della navigazione, il transito e la navigazione in genere. E questa attività è stata appunto realizzata e si è riconferito al porto di Porto Palo di Menfi una nuova operatività.